Si chiama Dedicata a Te, la card che aiuterà le famiglie italiane a far fronte all'aumento dei prezzi degli alimenti e dei beni di prima necessità. Con un valore di 382,50 euro sarà disponibile per circa 1.300.000 nuclei familiari a reddito basso e ai blocchi di partenza l'atteso bonus previsto dalla prima manovra del governo Meloni per far fronte al caro spesa che ha svuotato i carrelli di molti italiani. Dal latte alla pasta, l'aumento dei prezzi ha fatto crescere la spesa delle famiglie costringendole a comprare meno. Il crollo, che ha riguardato anche beni alimentari di prima necessità, è stato definito allarmante dalle associazioni dei consumatori. Il provvedimento prevede un aiuto, una tantum, destinato a chi ha un'Isee fino a 15.000 euro annui e verrà erogato attraverso gli uffici postali. La misura era stata inserita nella legge di bilancio 2023 grazie allo stanziamento di un fondo specifico di 500 milioni di euro. A partire dal 18 luglio i comuni invieranno le comunicazioni contenenti le indicazioni ai beneficiari della carta, stimati in circa 1.300.000. I dati diffusi dall'Istat relativi a maggio 2023 mostrano vendite al dettaglio che registrano un aumento del 3% in valore, ma un calo del 4,7% in volume. Numeri che testimoniano quanto la crescita dei prezzi continua ad incidere sui comportamenti di acquisto dei cittadini, costretti a consumare meno spendendo più di prima, sottolinea Feder Consumatori. Per effetto dell'inflazione alimentare più alta da 40 anni, sottolinea invece Coldiretti, l'Italia si prepara a vivere l'estate a tavola più cara da decenni. Bene la card, alla luce di oltre 3,1 milioni di persone che in Italia hanno chiesto aiuto per mangiare. La somma potrà essere spesa fino al 31 dicembre 2023 e la misura si va ad aggiungere ad un altro fondo che quest'anno investerà quasi 100 milioni per l'acquisto di generi alimentari che verranno distribuiti attraverso il terzo settore.